E che vuol dirlo? Magari un giorno quando si apriranno i libri ci entra il riposito. E puoi chiamarti bravo ragazzo. Una figata. La parte. La parte calci. Io muoio contento a me. Qualunque cosa succeda sono io responsabile. Saluteci. Saluteci. La saluta. Mentre ti impresti? Sì, grazie ancora. La nuova polizia. La prestigione del dottorale, per favore. Sì, ok. Sì, ok. Sì, corazie quindi. Sì, prendono le liquidi. Quante volte. Sì. Quindi si aprecia laريúnza. Grazie. Grazie. Grazie.